Sì, sicuramente la pressione abbiamo un po' sentito perché siamo arrivate prima all'inizio dell'Ostodione. Sì, all'inizio era un po' dura, però pian piano abbiamo un po' giù in mano e alla fine è andata un po' fine, sì. I prossimi giorni saranno due, però ci raggiungono ancora qualche ragazzo e quindi speriamo di un po'. Sapevamo che sarebbe stata una dura partita e combattuta fino alla fine, purtroppo le palle perse hanno fatto la differenza. Abbiamo perso un po' troppi palloni e questo ci sono costati 5 gol di scarto, però nulla ancora definito, abbiamo ancora due partite quindi è tutto aperto, possiamo giocarcela.